Ciao, l'8 marzo è la festa delle donne. Io le donne le amo, io le donne le stimo, io le donne dico sempre che sono la cosa più bella del mondo. L'8 marzo, mi raccomando, alle 21.30 a Bologna, al bar centrale di San Apriere di Baricella e poi alle 23.00 al Castello d'Agile, mi raccomando, vi aspetto. Io, assieme a Salvo De Vinta, l'organizzatore che direttamente ha creato questo bel evento per poter stare assieme a noi. Saluto e venito. Ciao!